Riducendo le disuguaglianze clamorose che ci sono nell'uso dell'acqua, nella qualità delle risorse, nei sistemi di sanitazione, di disponibilità di acqua pulita, di servizi che sono elementari come quello che lei dà per scontato, apre il rubinetto e l'acqua da bere è potabile, non è così nel resto del mondo. La prima cosa da fare è questa. A parlare è Andrea Rinaldo, professore ordinario di costruzioni idrauliche all'Università di Padova e vincitore dello Stockholm Water Prize, riconosciuto anche come premio Nobel dell'acqua, lo fa a margine di una lecce tenuta nell'aulamagna del Boro. Ci sono due modi di approcciarla, c'è la mitigazione e c'è l'adattamento. La mitigazione è la strada corretta, parlavo ieri con Filippo Giorgi che è un grande studioso del clima, per loro non c'è altro che la mitigazione, andare alla radice dei problemi e risolvere i problemi. Io credo da vecchio ingegnere che l'adattamento, cioè dire, vabbè, certamente cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per mitigare, però immaginare che la cosa possa farsi a tempi brevi e mettendo tutti d'accordo non è banale. E anche se la procedura concettualmente non è quella giusta, credo che l'adattamento sia la strada giusta per noi. L'adattamento vuol dire cercare di fare tutto quello che è compatibile, che è possibile, per occuparci sia dell'acqua salvifica che dell'acqua distruttrice. Ridurre le disuguaglianze ed andare verso la giustizia distributiva, imparare a gestire il bene acqua. I cambiamenti climatici devono insegnarci a gestire la risorsa anche nei nostri territori. La desalinizazione, o desalinizazione come vuole, dell'acqua che è esclusivamente quella, non certo quella per l'agricoltura, ma quella che serve all'uso urbano, che è poca, confrontata con quella dell'agricoltura. Certamente costa energia, c'è un conto economico da fare, eccetera, ma è una strada certamente da esplorare. La pianura padana deve fare i conti anche con la siccità. L'intervento dell'uomo è necessario. Che dire di no agli invasi a priori è sbagliato. A mio giudizio, non sono l'oracolo certamente, ma secondo me è sbagliato. Perché? Perché ci sono combinazioni che sono adatte a un determinato tipo di territorio, al contesto geografico, al contesto di beni ambientali e culturali che questo tocca. Ma dire per principio che non si fanno è un errore colossale, anche perché io temo che in molti casi non ci sia alternativa. Grazie a tutti.